Con il freddo si muore di più. Nonostante le morti per AFA facciano più notizia, è infatti l'impatto prolungato con le basse temperature a creare più danni al nostro corpo, specie nei climi temperati. Ictus, attacchi cardiaci, ma anche il proliferare dei virus rende l'inverno la stagione in cui fisiologicamente si registrano più decessi. Forse è anche per questo che nelle camere mortuari e dei cimiteri di Pescara, Colle Madonna e San Silvestro, si sono accumulate bari in attesa di una degna sepoltura. Ma i ritardi segnalati da molti cittadini che aspettano che i propri cari possano ricevere una degna sepoltura sono dovuti anche alla carenza di loculi e al sovraccarico di lavoro dei necrofori, impegnati non solo nelle tumulazioni ordinarie ma anche nelle estumulazioni. Sono queste le spiegazioni fornite al Tg8 dall'assessore ai cimiteri del comune di Pescara, Maria Rita Carota. In effetti ci sono alcune salme che sono in attesa di essere tumulate ma diciamo che la situazione non è particolarmente emergenziale e rientra nell'ambito delle purtroppo consuete attività che faticano un pochino ad andare avanti. Capiamo che il ritardo anche solo di alcuni giorni per i familiari delle persone decedute sono significativi però pian piano tutta la struttura di ambiente che gestisce ancora per qualche tempo i servizi cimiteriali sta provvedendo a sistemare le salme. È un problema di posti che mancano, di personale che manca per effettuare queste operazioni di tumulazioni o cosa? Sicuramente abbiamo dovuto provvedere nei mesi scorsi a far fronte a una situazione che ormai andava avanti da parecchi anni e cioè la grave carenza di posti nel cimitero di Colle Madonna che ci ha costretti come amministrazione a dover effettuare delle revoche per le concessioni dei loculi cosiddetti perpetui, quelli antecedenti al 75. Pian piano ecco anche queste sono operazioni alle quali il personale di ambiente ha dovuto far fronte e quindi le stimolazioni anche di questa procedura e stanno sovraccaricando insomma la struttura quindi c'è parecchio lavoro da fare. In conclusione Assessore cosa possiamo dire magari ai cittadini che aspettano la tumulazione dei propri cari? Che tempistica si prevede? Generalmente nell'arco di 15 giorni al massimo 20 giorni si possono effettuare tutte le operazioni necessarie. Chiaramente se la famiglia del defunto non ha già a disposizione una ulteriore sistemazione bisogna attendere appunto che si liberino i posti. Però pian piano stiamo cercando di venire fuori da una situazione che appunto si trascinava ormai da parecchio tempo.